Ciao, sono Carmen Lalli, o se preferite, maestra Carmen Apprendimento Divertente, formatrice Scuola Oltre. Natale si avvicina e non avete idee nuove e accattivanti da sviluppare in classe? Vi piacerebbe mettere in opera attività semplici e veloci da organizzare ma di grande effetto? Vorreste sapere come rendere magico, coinvolgente e sorprendente il periodo che precede le festività? Natale inclusivo e divertente Last Minute vi offre proposte smart e di sicuro successo. Vi aspetto!